capitolo 3 per la pace mentale dei singoli individui poteva darsi che sarebbe stato meglio se lo stato di emergenza fosse continuato con le luci e l'energia di nuovo in funzione e niente da fare se non guardarsi l'un l'altro evacuamente le cinque persone sul ponte si sentivano sempre più a disagio non c'era spazio per distendersi o per rilassarsi uno che si fosse messo a camminare avanti e indietro avrebbe utilizzato tutto il pavimento disponibile così si avvilivano sempre più alle reciproche postazioni ingurgitavano smodate quantità di caffè spillato dal cuoco automatico e cercavano di farsi venire in mente qualcosa da fare che distogliesse i loro cervelli maledettamente attivi dall'attuale sgradevole situazione riguardo a quello che poteva esserci all'esterno forse molto vicino preferivano non fare congetture ad alta voce fra tutti solo ash sembrava relativamente contento l'unica cosa che al momento lo preoccupasse era la salute mentale dei suoi compagni di bordo sulla nave non c'erano vere e proprie attività recreative alle quali potessero dedicarsi la nostro uomo era un rimorchiatore non una nave da crociera quando non attendeva ai compiti necessari l'equipaggio doveva trascorrere il tempo libero nel comodo ventre dell'ipersonno era del tutto naturale che lo stare svegli senza far niente gli nervosisse anche nelle migliori circostanze e quelle attuali non erano certo le migliori ash poteva continuare ad esaminare problemi al calcolatore senza annoiarsi si sentiva stimolato quando era sveglio abbiamo ricevuto qualche risposta alle nostre chiamate dallas si sporse dal sedile per guardare l'addetto scientifico ho provato con tutte le risposte del manuale oltre all'associazione libera ho fatto anche tentare mamma con un codice strettamente analogico ash scosse la testa deluso solo la chiamata di soccorso ripetuta e consueti intervalli tutti gli altri canali sono vuoti tranne un debole crepitio continuo sullo 0,33 indicò in alto con un pollice mamma dice che la scarica caratteristica della stella centrale di questo mondo se là fuori c'è qualcosa o qualcuno di vivo non riesce che a chiedere aiuto dallas fece un rumore volgare riavviamo tutta l'energia guardiamo dove siamo accendi i riflettori ripley azionò un interruttore una catena di potenti luci per le luminose sulla struttura scura della nostromo acquistarono vita fuori degli oblò adesso il vento e la polvere erano più evidenti a volte formavano piccoli vortici a volte spazzavano direttamente e con notevole forza il loro campo visivo rocce isolate piccole colline erano le sole protuberanze visibili di quel paesaggio desolato non c'era segno di qualcosa di vivente nessuna macchia di lichene nessun cespuglio niente solo vento e polvere che turbinavano in una notte aliena niente oasi sussurrò fra sé cane vuoto informe in ospitale dallas si alzò si avvicinò ad un oblò fissò la tempesta incessante osservando i frammenti di roccia che sfrecciavano davanti al vetro si domandò se l'aria fosse mai calma in quel piccolo mondo per quello che sapevano delle condizioni atmosferiche locali la nostromo poteva essere atterrata in un calmo giorno d'estate era improbabile quel globo non era sufficientemente grande per produrre condizioni meteorologiche veramente violente come su giove per esempio questo lo consolò un po rendendosi conto che il tempo all'esterno non poteva peggiorare molto le possibilità del clima locale costituirono il principale argomento di conversazione non possiamo uscire in queste condizioni non al buio in ogni caso asce sollevò lo sguardo della sua console non si era mosso chiaramente contento che non riusciva a capire come facesse se ogni tanto non si fosse alzato dalla propria postazione sarebbe già diventato pazzo asce notò il suo sguardo e fornì alcune informazioni utili mamma dice che il sole locale sorgerà fra 20 minuti dunque si decida di andare non sarà il buio è già qualcosa ammise dallas aggrappandosi anche al più piccolo segno incoraggiante se quelli che ci hanno chiamato non vogliono non possono dire di più dovremo andare a vedere chi sono o che cos'è se il segnale viene trasmesso da una stazione automatica a che distanza siamo dall'emittente asce studiò i quadranti e mise in moto un plotter per avere una conferma circa 3000 metri di terreno essenzialmente piatto per quanto riescono a valutare rivelatori circa nord est della nostra attuale posizione la composizione del terreno sembra essere quella che abbiamo stabilito all'inizio della discesa la stessa roba solida su cui poggiamo basalto con qualche variazione anche se non escluderei la possibilità di trovare alcune grosse sacche di amigdalina saremo attenti a dove metteremo i piedi allora kane stava valutando a mente la distanza rispetto all'autonomia delle tute perlomeno è abbastanza vicino da andarci a piedi sì lambert sembrava contenta non ci tenevo a muovere la nave è più facile tracciare una rotta verticale di uscita da un'orbita che non uno spostamento sulla superficie con questo tipo di tempo bene sappiamo che ci andremo a piedi cerchiamo di scoprire in mezzo a che cosa cammineremo hash dacci i dati preliminari sull'atmosfera l'addetto scientifico premette alcuni pulsanti sulla superficie dell'anostromo si aprì un piccolo portello ne uscì al vento una bottiglia metallica che si riempì in una frazione di minuto dell'area di quel mondo per poi rientrare nella nave il campione venne immesso in un contenitore a vuoto strumenti sofisticati cominciarono a scomporlo pochissimo tempo dopo quei pezzi d'aria comparvero sotto forma di numeri e simboli sulla console di hash lui li esaminò brevemente richiese un controllo su uno di essi poi riferì ai compagni è quasi un composto primordiale molto azoto inerte un po di ossigeno un'elevata concentrazione di anidride carbonica libera c'è anche metano e ammoniaca parte di quest'ultima allo stadio solido fa freddo lì fuori sembra tutto piuttosto normale ed irrespirabile pressione 10 la quarta dine per centimetro quadrato non da darci noia a meno che questo vento non diventi davvero forte che ci dici dell'umilità volle sapere che le visioni di un'immaginaria oasi extraterrestre stavano rapidamente scomparendo dalla sua mente 98 doppio p può non avere un buon odore ma è umido molto vapore acqueo strano miscuglio non mi sarei aspettato di trovare tanto vapore insieme al metano oh beh non consiglierei di bere ad una sorgente locale se ne esistono probabilmente non di acqua c'è nient'altro che dovremmo sapere solo che la superficie di basalto un mucchio di dura lava fredda ed anche l'aria fredda molto al di sotto dello zero anche se l'aria fosse stata respirabile avremmo avuto bisogno delle tute per proteggerci dalla temperatura se là fuori c'è qualcosa di vivo è un duro dallas sembrò rassegnato immagino che fosse irragionevole sperare in qualcosa di diverso la speranza è l'ultima a morire c'è atmosfera giusto quanto basta per ostacolare la vista avrei preferito che non ci fosse stata aria ma non siamo stati noi a progettare questa roccia non si può mai dire potrebbe essere la concezione di paradiso di qualcun altro non c'è motivo di prendersela poteva essere molto peggio lambert studiava la tempesta che infuriava l'esterno si stava gradatamente schiarendo con l'avvicinarsi dell'alba preferisco senz'altro questo al cercare di atterrare su qualche gigante gassoso dove avremo venti di 300 chilometri all'ora nei periodi di calma e 10 o 20 atmosfere di gravità perlomeno qui possiamo camminare senza supporto per il generatore senza stabilizzatori c'è gente che non sa riconoscere quando ha fortuna strano che non mi sembri di aver avuto fortuna preferirei essere sempre nell'impersonno qualcosa si mosse contro le sue caviglie e lei si chinò per accarezzare il dorso di jones il gatto fece le fusa con gratitudine oasi o no mi offro volontario per uscire per primo mi piacerebbe avere la possibilità di vedere da vicino la misteriosa trasmittente non si sa mai che cosa si potesse trovare gioielli e denaro dallas non riuscì a riprimere un sorriso kane era un noto ricercatore di arcobaleni l'ufficiale in seconda al sole spalle perché no ti ho sentito va bene era scontato che dallas partecipasse la piccola spedizione si guardò intorno per trovare un candidato per completare il gruppo lambert viene anche tu benissimo perché proprio io perché no sei la nostra esperta in rotte vediamo come te la cavi quando non sei seduta sulla tua poltrona fece per avviarsi verso il corridoio si fermò e disse con non curanza c'è un'altra cosa probabilmente ci troveremo davanti a un relitto ormai morto e ad un ripetitore automatico altrimenti a quest'ora qualcuno dei sopravvissuti si sarebbe fatto vivo tuttavia non possiamo essere sicuri in che cosa ci imbatteremo non sembra che questo mondo brulichi di vita ostile o di altro genere comunque non correremo rischi inutili prendiamo qualche arma esitò mentre ripley andava a raggiungerli tre è il massimo che possa far uscire dalla nave replay dovrai attendere il tuo turno non voglio uscire questo posto mi piace solo che qui non ho più niente da fare parker e brett avranno bisogno di aiuto nei lavori di rifinitura per riparare quei condotti nella sala macchine faceva di gran lunga troppo caldo nonostante gli sforzi dell'unità refrigerante del rimorchiatore il problema era dovuto alla grande quantità di saldature che parker e brett dovevano applicare e all'ambiente ristretto nel quale erano costretti a lavorare l'aria vicino ai termostati rimaneva relativamente fresca mentre quella in prossimità del saldatore si surriscaldava rapidamente la colpa non era del saldatore al laser il raggio che emetteva era relativamente freddo il calore veniva generato quando il metallo si fondeva per formare una chiusura ermetica i due uomini lavoravano senza camicia e il sudore colava rivoli lungo le schiene nude poco distante ripley rappoggiata ad una parete e servendosi di uno strano attrezzo stava rimuovendo un pannello protettivo un complicato intreccio di fili colorati e di minuscole forme geometriche fu esposto alla luce due piccole sezioni erano carbonizzate con un altro strumento estrasse le componenti danneggiate poi cercò nella sacca ricolma che aveva tracolla i pezzi di ricambio adeguati mentre metteva a posto il primo parker spense il laser esaminò la saldatura con occhio critico non male se devo essere sincero si voltò per guardare ripley il sudore e lei faceva aderire al petto la tuta ehi ripley vorrei farti una domanda lei non distolse gli occhi da lavoro un secondo modulo venne ordinatamente inserito accanto al primo come un dente falso inserito nella sua cavità sì ti ascolto potremo uscire in esplorazione o dovremo restare chiusi qui dentro finché non sarà tutto finito abbiamo già riparato il generatore il resto di questa roba ed indicò la malconcia sala macchine con un brusco gesto della mano è per bellezza niente che non possa aspettare qualche giorno conoscete tutti e due la risposta si mise a sedere e si strofinò le mani alzando gli occhi su di lui finché non tornano non può uscire nessun altro tre fuori quattro dentro e il regolamento fece una pausa colta da un pensiero improvviso e lo esaminò con espressione astuta non è questo che ti preoccupa vero sei preoccupato per quello che potrebbero trovare o ti abbiamo giudicato tutti male e tu sei davvero un disinteressato ricercatore di conoscenza dedicato ad ampliare i confini dell'universo conosciuto diavolo no parker non sembrava minimamente offeso dal sarcasmo di ripley mi dedico ad ampliare i confini del mio conto in banca quindi come dividiamo nel caso trovassero qualcosa di prezioso non ti preoccupare avrete tutti e due quello che vi spetta cominciò a cercare nella sacca delle parti di ricambio per trovare un certo modulo per riempire l'ultima sezione danneggiata nel quadrato scoperto della parete non lavoro più annunciò improvvisamente brett finché non ci viene garantito il premio completo ripley trovò l'elemento che cercava e cominciò a metterlo dentro la parete il contratto vi garantisce una parte di tutto quello che troveremo lo sapete tutti e due ora smettetela e tornate al lavoro si voltò e cominciò a controllare che i moduli che aveva inserito funzionassero correttamente parker la fissò con durezza aprì la bocca per dire qualcosa poi ci ripensò era l'ufficiale amministrativo della nave litigare con lei non sarebbe certo stato un vantaggio aveva espresso il suo punto di vista e non era stato soddisfatto meglio non insistere comunque si sentisse dentro sapeva essere logico quando la situazione lo richiedeva riaccese rabbiosamente il laser e cominciò a saldare un'altra sezione del condotto danneggiato brett che si occupava dell'alimentatore degli accessori del saldatore disse giusto senza rivolgersi a nessuno in particolare dallas kane e lambert percorsero uno stretto corridoio adesso indossavano stivali giacche e guanti oltre ai pantaloni da lavoro isolati avevano anche il pistole laser versioni miniatura del saldatore che veniva attualmente utilizzato da parker e brett si fermarono davanti alla porta massiccia ben contrassegnata da simboli e cartelli di avvertimento camera di compensazione principale accesso riservato al personale autorizzato a dallas quell'avvertimento sembrava ogni volta comicamente prolisso perché a bordo della nave non poteva esserci personale non autorizzato e chiunque fosse autorizzato ad essere a bordo era autorizzato a servirsi della camera di compensazione che intoccò un interruttore si aprì un piccolo pannello protettivo che rivelò tre pulsanti nascosti li premette nella successione corretta ci fu un sibilo e la porta si spostò di lato entrarono alla parete erano attaccate sette tute da vuoto erano ingombranti strane e assolutamente necessarie per quell'escursione se le valutazioni di ash sulle condizioni esterne erano anche solo lontanamente accurate si aiutarono l'un l'altro ad indossare quelle pelli artificiali vitali e controllarono reciprocamente il funzionamento delle tute poi fu il momento di indossare i caschi questa operazione venne effettuata con la solennità e la cura adeguate e ciascuno si assicurò a turno che la chiusura del vicino non presentasse perdite dallas controllò il casco di kane che in quello di lambert e lambert effettuò tale servizio per il comandante eseguirono quella commedia a tre con la massima serietà l'equivalente spaziale di tre scimmie che si ripuliscono l'un l'altra furono innestati i regolatori automatici dopo poco tutti e tre respiravano l'aria leggermente stantia ma perfettamente sana delle rispettive bombole con una mano guantata dallas attivò il comunicatore interno del casco sto parlando mi sentite ricevuto tu mi senti dallas anui e si voltò verso l'ancora silenziosa lambert ricevuto disse lei senza cercare di nascondere il proprio disappunto era ancora insoddisfatta per essere stata scelta per quella spedizione andiamo lambert ti ho scelto per le tue capacità non per il tuo buon carattere grazie del complimento e grazie di niente perché non hai preso ash o parker probabilmente sarebbero stati felici di avere l'occasione di venire ash doveva restare a bordo lo sai parker deve lavorare nella sala macchine e non riuscirebbe uscire da un sacco senza strumenti non mi importa se mi maledici a ogni metro del cammino basta che tu trovi la fonte di quel maledetto segnale sì meraviglioso d'accordo siamo pronti allora non toccate le armi a meno che non ve lo dica io pensi di incontrare amici spero il meglio piuttosto che il peggio azionò i comandi del trasmettitore esterno della tuta aprì un altro canale fu ripley a rispondere sta scendendo nel compartimento scientifico dagli un paio di minuti ricevuto kane chiudi il portello interno l'ufficiale in seconda premette i pulsanti necessari e la porta si richiuse dietro di loro ora apri quello esterno kane ripete la procedura che gli aveva permesso di entrare nella camera di compensazione dopo aver premuto l'ultimo pulsante si spostò indietro accanto agli altri ed attese lambert si appoggiò istintivamente al portello interno una reazione automatica all'ignoto che si avvicinava il portello esterno scivolò su un lato nuvole di polvere vapore turbinarono davanti ai tre esseri umani la luce era di color arancione scuro non era il familiare rassicurante giallo di sol ma dallas sperava che migliorasse via via che il sole saliva la luce era sufficiente per vedere anche se da vedere c'era poco in quell'aria densa e piena di particelle salirono sulla piattaforma ascensore che scorreva fra le gambe di sostegno della nave che intoccò un altro interruttore la piattaforma scese mentre i sensori che aveva nella parte inferiore le dicevano dove era il suolo calcolò la distanza si fermò mentre la sua base baciava il punto più elevato di una pietra scura con dallas davanti più per abitudine che per procedura formale scesero con cautela sulla superficie vera e propria di quel mondo la lava sotto gli stivali era dura e resistente venti tempestosi li schiaffeggiavano mentre esaminavano il paesaggio spazzato dalle correnti al momento non riuscivano a vedere nulla salvo quello che scorreva i loro piedi nella foschia arancione e marrone il luogo inesorabilmente deprimente pensò lambert non spaventoso anche se l'impossibilità di vedere in lontananza la sconcertante le faceva venire in mente un bagno notturno in acqua infestate da squali non si poteva mai sapere cosa sarebbe uscito dall'oscurità forse stava facendo una valutazione drastica troppo alla svelta ma non lo credeva in tutta quella terra velata non c'era un solo colore rassicurante non un azzurro non un verde solo un gocciolio continuo di gialli tristi arancioni stanchi marroni e grigi niente che riscaldasse l'occhio della mente per poi rallegrare un po i pensieri l'atmosfera aveva il colore di un esperimento di chimica andato male la terra quello degli escrementi compatti di una nave ebbe pietà di qualunque cosa vi vivesse nonostante non ci fossero prove in un senso nell'altro provava una sensazione viscerale che su quel mondo non ci fosse niente di vivo forse che in aveva ragione forse quella era la concezione di paradiso di qualche creatura sconosciuta se si fosse dimostrato vero non ci teneva la compagnia di quella creatura da che parte cosa la nebbia e le nubi avevano confuse sui pensieri gli schiarì scuotendo la testa da che parte lambert dallas la stava fissando sto bene troppi pensieri visualizzò la sua postazione a bordo della nostromo quella poltrona con i suoi strumenti di navigazione così angusta e scomoda in condizioni normali adesso le sembrava una piccola fetta di paradiso controllò una linea su un piccolo apparecchio che portava la cintura di là da quella parte vai avanti tu dallas le passò dietro seguita dal comandante e da kane si incaminò nella tempesta non appena ebbero abbandonato la mole protettiva della nostromo la tempesta poteva avvolgerli da ogni lato si fermò disgustata e mise in funzione la strumentazione della tuta non riesco a vedere un accidente nel casco risuonò inaspettatamente la voce di ash accendi il rilevatore e sintonizzato sulla chiamata di soccorso fatti dirigere da lui senza toccarlo l'ho già regolato io è già acceso e sintonizzato credi che non conosca il mio lavoro scusa lambert emise una specie di grugnito e continuò nella caligine dallas parlò nel microfono del suo casco il rilevatore funziona bene sei sicuro di riceverci chiaramente ash all'interno del compartimento scientifico nella parte inferiore della nave ash spostò lo sguardo dalle figure oscurate dalla polvere che si allontanavano lentamente alla console vivacemente illuminata che aveva di fronte tre immagini stilizzate si stagliavano chiaramente sullo schermo tocco un comando e ci fu un leggero sibilo mentre la poltrona si spostava di una posizione sulle rotaie sulle quali poggiava alineandolo con esattezza con lo schermo luminoso vi vedo sullo schermo e vi ricevo chiaramente le immagini sono buone non credo che vi perderò il pulviscolo non è sufficientemente denso e non sembra che sulla superficie ci siano molte interferenze la chiamata di soccorso su una frequenza diversa così non c'è pericolo di sovrapposizione sembra che vada bene la voce di dallas aveva un suono innaturale all'altoparlante del compartimento scientifico ti riceviamo chiaramente anche noi stiamo attenti a non chiudere il canale non vogliamo perderci non in questa roba ricevuto seguirò ogni vostro passo non vi disturberò a meno che non si presenti qualcosa di nuovo ricevuto dalla schiude lasciò aperto il canale con la nave e notò che lambert lo osservava da dietro il casco stiamo sprecando aria muoviamoci lei si voltò senza dire niente e riportò l'attenzione sul rilevatore cominciando di nuovo a camminare in quella melma danzante la gravità leggermente inferiore alleggeriva il peso delle tute delle bombole anche se tutti continuavano a chiedersi di che cosa fosse composto un mondo così piccolo per generare tanta forza di attrazione dallas riservò mentalmente del tempo ad un esame geologico in profondità forse era influenzato da parker ma non poteva ignorare la possibilità che quel mondo avesse grossi depositi di metalli pesanti preziosi la compagnia avrebbe naturalmente reclamato una scoperta del genere poiché sarebbe stata effettuata con attrezzature della compagnia e durante il lavoro ma avrebbero potuto esserci premi generosi quella fermata non intenzionale poteva rivelarsi proficua dopo tutto il vento l'investiva flagellandoli di terra e di polvere una pioggia solida non si vede a più di tre metri nessuna direzione smettila di lamentarti mi piace lamentarmi andiamo finitela di comportarvi come due ragazzini non è il posto adatto è un gran bel posto però assolutamente non contaminato né dall'uomo né dalla natura un posto meraviglioso per abitarvi per una roccia ho detto basta lambert acque ma continuò a lamentarsi fra sé dallas le poteva ordinare di smettere di parlare ma non poteva impedirle di borbottare improvvisamente gli occhi le dettero un'informazione che momentaneamente distolse i suoi pensieri dalla condanna continua di quel luogo dallo schermo del rilevatore era scomparso qualcosa che c'è aspetta effettuò una piccola correzione sullo strumento resa difficile dai guanti ingombranti la linea che era scomparsa dal quadrante dell'apparecchio riapparve l'avevo persa ora l'ho ritrovata c'è qualche problema nel loro caschi risuonò una voce lontana ash sembrava preoccupato niente di importante lo informò dallas si guardò lentamente intorno cercando di scorgere qualcosa di solido nella tempesta c'è sempre un sacco di polvere di vento il segnale del rilevatore era svanito avevamo perso per un attimo la trasmissione qui è sempre forte ash controllò i propri quadranti non credo che si tratti della tempesta forse state per entrare in un terreno collinoso potrebbe bloccare il segnale state attenti se lo perdete non lo ritrovate spostate il rilevatore sul mio canale e tornate indietro finché non ricevete di nuovo la trasmissione poi cercherò di dirigervi io lo terremo presente ma finora non è necessario se incontreremo difficoltà del genere te lo diremo ricevuto ash chiude si ristabilì nuovamente il silenzio continuarono a camminare senza parlare in quel limbo arancione pieno di polvere dopo un po lambert si fermò l'hai perso un'altra volta no cambiamento di direzione indicò a sinistra da quella parte adesso continuarono secondo il nuovo tragitto lambert completamente concentrata sullo schermo del rilevatore dallas e kane concentrati su lambert intorno a loro la tempesta aumentò momentaneamente d'intensità le particelle di polvere picchiettavano insistentemente sulle visiere dei caschi dando vita a schemi di parole nelle loro menti tic tic siamo qui flick poc siamo qui siamo qui dallas e si scosse il silenzio la desolazione avvolta dalle nubi il riflesso arancione cominciava ad esserne stanco e vicino gli apparecchi di controllo delle tute informarono contemporaneamente il lontano ash dell'improvviso aumento delle pulsazioni dei tre molto vicino davanti si ergeva qualcosa li sovrastava di molto il respiro di dallas si era fatto corto tanto per l'eccitazione quanto per lo sforzo delusione era solo una grossa formazione rocciosa contorta e grottesca la previsione di ash sulla possibilità che incontrassero dei rilievi si era dimostrata corretta si ripararono momentaneamente dietro il monolite contemporaneamente la linea sul rilevatore di lambert scomparve l'ho perso di nuovo l'abbiamo superato che in scrutò le rocce cercò di vedere qualcosa dall'altra parte non ci riuscì no a meno che non sia sottoterra dallas si appoggiò alla parete rocciosa potrebbe essere dietro quest'affare batte il pugno avvolto dalla tuta sulla pietra o potrebbe essere solo una perdita di segnale dovuta alla tempesta facciamo una pausa e guardiamo aspettarono lì con le schiene appoggiate alla parete levigata polvere caligine urlavano intorno a loro adesso non vediamo davvero nulla presto dovrebbe spuntare il sole regolò il microfono ash se mi senti fra quanto tempo farà luce il sole sorgerà tra una decina di minuti allora dovremmo riuscire a vedere qualcosa oppure l'opposto lambert era stanca morta e dovevano ancora raggiungere la fonte del segnale né si trattava di debolezza fisica era la desolazione e la misteriosa colorazione a stancarle la mente aveva nostalgia della familiarità pulita e lucente della sua console la maggiore luminosità non migliora affatto la situazione invece di tirarli su il sorgere del sole li fece rabbrividire cambiando l'aria da arancione a rosso sangue forse sarebbe stato meno raccapricciante quando la debole stella si fosse alzata completamente ripley si passò una mano sulla fronte ed esalò uno stanco respiro richiuse l'ultimo pannello alla quale aveva lavorato dopo essersi assicurata del funzionamento dei pezzi di ricambio che aveva inserito e rimise gli attrezzi nelle tasche della sacca il resto dovrete farlo da soli io ho finito con le parti più minute non preoccuparti ci pensiamo noi la rassicurò parker non guardò nella sua direzione ma continuò a concentrarsi su quello a cui stava lavorando era ancora preoccupato che lui e brett non partecipassero alla spartizione di quello che la spedizione avesse trovato ripley si diresse verso il corridoio più vicino se si presentano delle difficoltà e avete bisogno di aiuto sarò sul ponte giusto rispose piano brett ash toccò un pulsante il trio di forme in movimento divenne netto e regolare perdendo l'alone confuso via via che l'ingranditore faceva il suo lavoro verificò gli altri strumenti di controllo i tre segnali delle tute continuavano ad arrivare chiaramente come va volle sapere una voce al citofono ash spense rapidamente lo schermo e premette il pulsante per rispondere finora bene dove sono domandò ripley si stanno avvicinando all'emittente sono entrati in un terreno roccioso e continuano a perdere il segnale ma sono così vicini che non vedo come possano non trovarla dovrebbero farsi vivi presto parlando di quel segnale non ne sappiamo niente di nuovo non ancora hai cercato di far passare la trasmissione attraverso le ciu per un'analisi più particolareggiata sembrava impaziente senti voglio conoscere i particolari quanto te ma mamma non l'ha ancora identificata quindi a cosa serve farci sopra esperimenti ti dispiace se provo io fai pure un danno non può essere ed è un modo per impiegare il tempo fammi sapere subito se scopri qualcosa nel caso tu avessi fortuna sì nel caso avessi fortuna sprofondò un po di più nel suo sedile adesso il ponte le sembrava stranamente spazioso con il resto dei suoi abituali occupanti fuori ed ash nel suo compartimento scientifico in effetti per quanto ricordava era la prima volta che era lì da sola le sembrava strano e non si trovava del tutto a suo agio beh se davvero voleva imbarcarsi in un'analisi e ciu era meglio cominciare un tocco su un interruttore riempì il ponte di quel tormentato lamento alieno abbassò rapidamente il volume era già sufficientemente inquietante in quel modo non aveva difficoltà a pensare che si trattasse di una voce come aveva ipotizzato lambert tuttavia quella era un'idea più fantasiosa che scientifica controllati donna guarda cosa dice la macchina e lascia perdere le reazioni emotive conscia dell'improbabilità di riuscire dove mamma aveva fallito accese il pannello che veniva raramente usato comunque come aveva detto ash era qualcosa da fare non riusciva a stare seduta inattiva nel ponte vuoto e dava troppo tempo per pensare meglio un lavoro fittizio che niente del tutto con il lato Grazie a tutti